Temptation Island, Manuela frena su Luciano, amore? Ancora presto per dirlo. Manuela Carriero frena su Luciano Punzo, vero amore? Ancora presto per dirlo. Capita raramente a Temptation Island che un concorrente fidanzato si lasci e si metta insieme al tentatore, che si sa. Viene pagato per svolgere il proprio compito. Eppure nell'edizione di Temptation Island appena conclusasi due coppie sono scoppiate e hanno visto nei tentatori una nuova via di felicità. Si sta parlando di Manuela Carriero che, dopo essersi lasciata con Stefano Sirena, Si è fidanzata con Luciano Punzo, ma in un'intervista al settimanale Nuovo TV ha frenato gli entusiasmi esagerati. Amore? Ancora presto per dire se sia vero amore. Ma ci sono tutti i presupposti. Luciano Punzo, il retroscena di Manuela Carriero, mi sono spaventata. Mi sono spaventata, ha rivelato Manuela Carriero su Luciano Punzo di Temptation Island. Perché mi aveva detto che si era accorto che tra noi stava nascendo qualcosa di più di un'amicizia. All'inizio volevo fare dei passi indietro. Durante l'ultima esterna, però, quando si sono trovati insieme sul letto a Baldacchino. Lui si è avvicinato e le loro labbra si sono sfiorate. Il bacio è stato apprezzato dai fan che hanno subito tifato per la coppia nascente. Temptation Island, Manuela Carriero verso la convivenza con Luciano? Vedremo. Manuela Carriero vive a Brindisi mentre Luciano Punzo vive a Napoli. Come faranno a viversi una bella e costruttiva storia d'amore? Nel frattempo lei è stata di recente a Napoli. Dove ha conosciuto la famiglia di Luciano, mentre presto lei farà le presentazioni in famiglia. E la convivenza? Vedremo. Lui mi ha detto che vorrebbe portarmi a Napoli. Nel frattempo a Luciano Punzo non interessa stare a leggere le critiche che gli rivolgono sui social dopo la loro esperienza a Temptation Island. Buon appetito! Iscriviti al canale! Grazie a tutti.